Avevo un po' di... ho ritardato l'evento, volevo prima capire cos'era successo e annunciare una nuova data di lancio. E la nuova data di lancio oggi ce l'abbiamo, fine marzo dell'anno prossimo. Abbiamo capito che è successo, una cosa molto intricata e complessa, però ci siamo arrivati e devo dire abbiamo un team con Avio e nostro, veramente straordinario e ritorneremo in volo con una grande missione, la prima missione con 28 satelliti che si farà in Europa. Grazie.